Buon salve e benvenuti in questo nuovo Vale Mas Aia mi sono fatta male al braccio mentre facevo buon salve perché ci ho messo troppa energia Oggi sono molto gasata perché è il 23 dicembre e quindi domani è la vigilia In realtà per voi oggi è la vigilia perché metto questo video domani Quindi buona vigilia Vabbè lasciamo perdere tutti i miei intrugli di giorni Comunque sto per uscire di casa per prendere le ultime cosine, gli ultimi regali E anche per accompagnare mia mamma a fare la spesa per il cenone della vigilia Perché sapete che io festeggio molto di più il 24 che il 25 Fatemi sapere voi come fate di solito qual è la vostra tradizione Noi mangiamo sempre la fondi chinoise il 24 sera Che è praticamente la carne cotta nel brodo con tutte le salsine buonissime Quindi sono molto molto emozionata Non vedo l'ora perché è uno dei miei piatti preferiti in assoluto Sono più o meno le 9 e mezza adesso Io mi sono già svegliata da un po' E ho finito di editare il Vale Mas che uscirà oggi Il primo dei due che usciranno perché Devo recuperare anche quello di ieri Quindi ne uscirà uno alle 14 e uno alle 18 Il primo è già pronto Lo sto salvando E niente quindi volevo aggiornarvi un po' sulla situa perché sto per uscire E però prima ovviamente apriamo il calendario dell'avvento Che è il penultimo pacchettino Quello qui in realtà penso di aver già capito di cosa si tratta al tatto Secondo me sono dei calzini Adesso verifichiamo subito ma mi sa che ci ho azzeccato Io ho sempre problemi ad aprire questi sacchettini Ebbene sì sono dei calzini bianchi Quest'anno mia mamma ha deciso di regalarmi tutti i calzini di colori neutri sobri Perché si è accorta che ho sempre calzini stravaganti Penso sia questo il motivo E niente quindi super utili Anche se si sporcheranno in 0,2 secondi Perché io non metto mai le ciabatte in casa Non riesco Cioè le perdo per strada e mi danno fastidio E quindi vado sempre in giro in calze E quelle bianche fanno sempre una brutta fine Però apprezzo il tentativo Io mi sto pettinando i capelli Cercando di migliorare la situazione Ma in realtà non mi sono accorta che la sto peggiorando Stanno diventando ancora più capelli barboncino Infatti non vedo l'ora di tornare a casa dopo E con calma senza fretta farmi una bella piastra Sistemarmi questo cespuglio che ho in testa In realtà ieri non mi dispiacevano Subito dopo la doccia Quando sono asciugati al naturale Non mi dispiacciono Perché sono belli, ricci, composti Poi diventano letteralmente un nido Attenzione ragazzi Evento più unico che raro Segnatevelo sul calendario Perché non accade spesso Oggi mi farò una coda Non lo so Ho deciso per far stare questi capelli Un po' più composti Sapete che non mi piaccio molto con la coda Cioè non è un'acconciatura che faccio spesso Perché non mi ci vedo molto bene Soprattutto perché odio le mie orecchie Però in generale non mi piace tanto Legare i capelli Però oggi è uno di questi giorni Quindi attenzione Attenzione Qui si fanno progressi Anche se non sono capace di far la coda Cioè ho praticamente 18 anni E non so farmi la coda Escono sempre questi cosi Queste montagnette E boh vabbè Non sono capace Io sono in macchina Sto aspettando che mia mamma torni Perché è andata veloce al supermercato A prendere un paio di cosine E intanto sto preparando tutto Per questo pomeriggio alle 15 Perché posterò su Instagram Un post molto speciale Molto particolare Diverso dal solito Che è il primo post Il primo video Di un format Che porterò costantemente Sul mio profilo Instagram E anche su TikTok E sono praticamente Delle gag Degli sketch comici Di vita reale Insomma Non sto qui a spiegarvelo Nel dettaglio Ve lo metto anzi direttamente qua Così lo vedete E lo vediamo insieme Oddio Tra 5 minuti arriva Kami Ci scambiamo i regali Deve essere tutto quanto perfetto Ok I regali Il primo Questo qua fotonico Le piacerà tantissimo Questo vabbè Ci ho speso un sacco però E il pezzo forte Qui in cima Sopra Chissà cosa mi ha regalato lei Beh io quest'anno Mi sono superata Arrivo Arrivo Che bello Rivedete Hai visto come ho acchittato Tutto bene per Natale Grazie Ma non dovevi Scorreggiare meglio Ma cos'è Ma è tipo uno scherzo Oppure Ah ok il regalo Carino Cioè 7 motivi Per cui dovresti Scorreggiare sempre Ci sta Ma c'è il prezzo Non è incartato Bello però Grazie Grazie Fa bene il colon Ok Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Se vi piace Se vi piace questa idea Un po' particolare Un po' originale Insomma perché Ci tengo a fare cose diverse Dagli altri Ci tengo a diversificarmi Ma soprattutto nel fare Contenuti che mi rappresentino E le foto Mi rappresentano Bellissimo Però Mancava qualcosa Nel mio profilo Instagram E penso di aver trovato Il format giusto Vale Babba Natala Is back Sono venuta a casa di Alissa Che è la mia migliore amica A darle questo regalino Glielo lascio in buca lettere Perché non è a casa Però insomma Valeria Babba Natala Ha completato Ufficialmente La sua missione Perché non ne ho più Da consegnare Comunque io le avevo fatto Pure il biglietto Ma giustamente L'ho dimenticato A Milano Come di mio solito Sono svampita Genia Comunque guardate che bello C'è il lago Il mitico lago di Lugano Anche se non è bel tempo È bellissimo L'estate mi ci lancio Sempre dentro Si può nuotare In questo lago Ed è sempre Super bello Insomma Però se lo faccio ora Penso che Muoio Ibernata Musica Musica Grazie a tutti. Come avrete visto dalle clip precedenti siamo state a Lugan nella mia amata city, avete visto come l'hanno addobbata bene con l'albero, tutte le luci, le decorazioni ad oro e siamo state a prendere il regalo da parte di mia mamma per me di Natale però non vi dico ancora cos'è perché ve lo farò vedere in un video apposito nel Valemas del 24-25 e poi siamo state anche a fare la spesa, abbiamo preso un sacco di cose per la cena di domani di Natale. Ci manca ancora la carne quindi dobbiamo fare ancora una tappa in tutto ciò, è già l'una e mezza praticamente quindi mi sono presa un paninozzo e mi ha fatto straridere perché mentre lo stavo andando a prendere mia mamma mi voleva dire una roba e ha iniziato a urlare tipo Valeria si sono girati tutti! Ma che se ne frega almeno mi hai sentito! Che buono sto paninozzo, stavo morendo di fame, ha dentro prosciutto, pomodoro, insalata, formaggio spalmabile, insomma buonissimo. Comunque è veramente veramente triste vedere tutti i ristoranti addobbati per Natale con gli alberi con tutte le lucine però vuoti perché ovviamente sono chiusi. Qua in Svizzera in realtà li hanno chiusi solo ieri quindi da pochissimo ed è molto triste come cosa. Mi ricordo gli altri anni tutti seduti ai bar con le cioccolate calde, era veramente bellissima l'atmosfera, quest'anno invece è un po' triste però vabbè ci divertiremo comunque e sarà comunque un bel Natale. Tra l'altro c'è un signore che mi guarda male perché vloggo, ho comprato anche, non c'entra col Natale, ho comprato anche la plastica da mettere sul telefono per proteggere lo schermo perché ieri ho tolto quella che avevo e mi sono accorta che ho crepato un po' lo schermo, nell'angolino c'è una piccola crepa e non voglio che diventi più grande, non voglio sfracellare il telefono quindi ho preso una plastica tipo il vetro temperato da mettere sopra per evitare di romperlo, ora la smetto di parlare e mi mangio il mio palinozzo. Ciao peloso, ciao peloso con l'orecchio monco perché quando era piccolo faceva sempre le lotte quindi si ammaccava sempre. Adesso invece ho un vecchietto quindi si è sempre in casa a fare la nanna, vero? Vero, bellissimo! Sono le quattro e mezza fuori praticamente già a buio, tranne che oggi non è stata una bella giornata quindi è stato mezzo buio tutto il giorno spero che domani mattina sia un po' meglio, almeno posso fare qualche contenuto natalizio, non mi sono neanche piassate i capelli alla fine perché non ce l'avevo voglia. Ho appena fatto la radio con i tre marci, Jody, Tony e Tony, mi sono divertita un sacco con loro, rido sempre tantissimo mi sono collegata in FaceTime e loro erano in diretta radio e adesso devo editare il Valemast da pubblicare tra poco però prima voglio fare un TikTok con mia mamma che consiste nel... cioè lei deve rispondermi sì o no senza sapere le domande mentre io a voi le faccio vedere, vabbè non so se si sa capito però lo vedrete su TikTok. qui mamma Natala sta impacchettando tutti quanti i regalini, yeah dopo lo devo fare anch'io perché l'albero si sta riempiendo, qui ci sono già quelli che ha messo mio papà e non vedo l'ora di vederli tutti quanti sotto l'albero, fa sempre una bellissima atmosfera, è sempre bellissimo vederli tutti quanti qui sotto e niente qui c'è il truce, il pluni e la super stufa che amo perché è caldissima sono le sette, io in questo seriggio ho editato e caricato il Valemast, ho il dito sporco di Pennarello vai Valeria e ho fatto anche una foto che vi posterò nelle prossime settimane su Instagram, non è molto natalizia anzi per niente quindi penso che la posterò quando questo periodo sarà passato però sono molto soddisfatta e ora è pronta la cena quindi andiamo a mangiare e dopo cena impacchetto i regali e li metto sotto l'albero perché anche mia mamma ha finito di impacchettarli quindi è veramente bellissimo vedere l'albero pieno di doni ah comunque è successa una cosa stranissima perché a mia mamma sono arrivate 4 email con scritto che stanno arrivando dei pacchi Amazon da lontanissimo per me ma io non ho ordinato nulla e oggi è arrivato il primo e ci sono dentro tipo dei coriandoli per le feste colorati così di carta ma io non li ho mai ordinati e non capisco come siano arrivati qui a casa con il mio nome e il mio indirizzo però vedremo cosa arriverà nei prossimi giorni, è stranissima sta cosa, cioè non capisco buon appetito a tutti stasera, pasta, vongoli, gamberetti, frutti di mare, tutto quanto e quindi buon appetito sono le 9 e io sono qui spaparanzata nel letto e direi che è arrivata l'ora di impacchettare gli ultimi regalini e di metterli sotto l'albero quindi andiamo subito ciao pilli come stai? cosa ci racconti quest'oggi? stai guardando i tiktok? tiktok sei felice che domani è Natale? domani è la vigilia super vigilia, eh vabbè ma noi siamo già alla vigilia e mica a Natale quindi per noi è Natale contento prima prima eccomi qui per incartare gli ultimissimi regali, in realtà la maggior parte li ho già incartati a Milano mentre gli ultimi che devo incartare sono lo champagne per la ragazza di mio fratello un buono per mia sorella e il suo ragazzo per un negozio e due paie di calze natalizie super super caride come faccio a incartare una bottiglia? ragazzi sarà un'impresa molto difficile incartare una bottiglia cioè non ho idea di come si faccia io non riesco neanche a incartare le cose quadrate, rettangolari quindi figuratevi una bottiglia ma credo nelle mie doti artistiche non è vero raga c'è il mio gatto che sta giocando con un pezzo di carta regalo che è caduto per terra e mi fa spaccare perché è convinto che sia tipo un animale o qualcosa è super convinto, adesso l'ha immobilizzato, tra un attimo rischizza male ad ora, a volte mi ricordo che tempo fa si rincorreva anche la propria coda quindi girava su se stesso e niente è un piccolo babbeo ma li voglio bene sce molto dai, devo dire che me la sono cavata abbastanza bene anche la bottiglia l'ho incartata bene ho già scritto anche i nomi e sì, non scandalizzatevi se vedete dei nomi strani tipo JB, Jesus ma io non riesco a chiamare le persone in modo normale quindi ho dei soprannomi strani per tutto mio fratello è Docti mia sorella è Schnauzer però vabbè ho scritto Sara perché io non la chiamo quasi mai così mio papà è Pluni mia mamma è Sgrunti e il ragazzo di mia sorella è Jesus insomma tutti i nomi super strani adesso metterò tutti quanti i regali che ho impacchettato sotto l'albero così si riempie un pochino intanto c'è sempre questa pala pelosa di mezzo che mi disturba no scherzo mi fa piacere di vederti lui ogni volta che qualcuno fa qualcosa si mette in mezzo assurdo a volte mentre studiavo così si sedeva sui fogli, sui libri e vabbè e vabbè adesso mi farò un tè di finocchio in questa bellissima tazza con il pupazzo di neve rialzato tra l'altro curiosità fatemi sapere se voi avete mai bevuto il tè di finocchio perché non ho mai conosciuto nessuno che lo beve o comunque che ce l'ha in casa perché è un po' particolare in effetti come tè ma io ho sempre bevuto solo quello da quando sono piccolissima perché mia mamma mentre era in ospedale perché stavo per nascere io ha conosciuto una signora che è diventata poi sua amica che beveva sempre il tè di finocchio quindi ha iniziato pure lei a berlo adesso lo beve ogni sera da tantissimi anni e quindi è una cosa che sto iniziando e quindi è una cosa che faccio anche io da quando sono piccola perciò insomma fatemi sapere se anche voi lo bevete o se siamo le uniche ora penso che leggerò un film si leggerò un film convinta che guarderò un film di Natale perché ho l'account Netflix di Jodie quindi forse vado a sbirciare qualcosina ho deciso guarderò questo film qui che si chiama qualcuno salvi il Natale ne ho sentito parlare molto bene sui social, su Instagram quindi insomma proverò a vedere questo fatemi sapere se l'avete mai visto ho fermato un attimo il film perché voglio accendere una bella candela natalizia perché è la notte prima della vigilia quindi voglio passarla il più natalizia possibile anche se spero di riuscire a non andare a dormire troppo tardi così domani mi sveglio un po' presto faccio un bel po' di cose tra video, foto, addobbi vorrei fare tipo dei segni a posto comunque qualcosa di un po' originale per decorare tutta la casa per il cenone di Natale anche se in realtà ne parlo come un cenone ma siamo io, mia mamma, mio papà e i miei fratelli quindi è una normalissima cena di famiglia vista la situazione non si può fare di più però insomma è comunque più speciale del solito perché è Natale parliamone bellissimo ho acceso la mia candela preferita in assoluto ovvero la Christmas Cookies anche perché la maggior parte delle candele praticamente tutte le ho a Milano e non le ho portate ovviamente quindi è più o meno l'unica che mi è rimasta ma per fortuna è la mia preferita quindi è perfetta ed è pure natalizia quindi meglio di così non si può sono indecisa se domani farmi i capelli lisci oppure boccolosi è un dubbio esistenziale che ho da sempre non so con quale io stia meglio quindi fatemi sapere se secondo voi sto meglio liscia oppure boccolosa amici miei cari è mezzanotte e mezza e io tra poco vado a prepararmi per poi dormire ma prima voglio rispondere a qualche domanda che mi avete fatto su Instagram mi chiamo Vale Vedovatti quindi se ancora non mi seguite andate a mi seguire perché lì vi aggiorno veramente su tutto e quindi partiamo subito con questo Q&A la prima domanda è che voto caratteriale ti dai da 1 a 10? penso che mi darei un 7,5 barra 8 non mi dispiace affatto il mio carattere anzi mi piace molto perché sono molto energica molto positiva molto solare ambiziosa e aiuto tanto anche gli altri mi piace far star bene chi mi sta accanto sono molto generosa ma la parte negativa del mio carattere è uno la testardaggine perché se ho in mente una cosa è quella e nessuno può fermarmi nessuno può farmi cambiare idea se ho in gesta una cosa non ascolto nessuno cioè per me è quella stop quindi questo è un po' un difetto e poi anche l'ansia e le paranoie perché se non ho la situazione sotto controllo se qualcosa non va come voglio io vado in ansia e quindi questa è una parte un po' negativa del mio carattere la seconda domanda è pandoro o panettone? è la classica domanda che si fa a Natale e io vi dico assolutamente pandoro perché odio i canditi le uvette queste cose qui che ci sono nei panettoni veramente non le sopporto quindi team pandoro for life anche se in realtà neanche il pandoro mi fa impazzire particolarmente cioè non è che ne mangio tantissimo se c'è ok però non è che è una cosa di cui vado matta fatemi sapere se voi invece siete team pandoro o team panettone non è una domanda ma volevo dirti che apprezzo un sacco quanto impegno metti nei video mi fa davvero tanto tanto tantissimo piacere ricevere questi messaggi soprattutto che appreziate e che notiate quanto impegno ci metto io ogni giorno cerco di superarmi di darvi contenuti più belli possibili ci metto soprattutto il cuore e la passione che penso siano la cosa fondamentale e grazie grazie per sostenermi sempre vi voglio tanto 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 bene non riesco a superare la mia vecchia relazione sono una sottona parto col dirti che ti capisco perché anche io sono una sottona prima di fidanzarmi con Jody gli sono stata sotto un anno cioè io un anno gli sbavavo dietro e lui non mi calcolava e io ancora che gli sbavavo dietro quindi ti capisco e penso che solo il tempo curi le ferite a una certa ti stanchi proprio di stare male ti stufi ti dici perché passo questo tempo a star male per lui e quindi ad una certa la superi ma purtroppo non c'è una formula magica è una cosa che devi lavorare dentro di te e che appunto secondo me il tempo può curare e secondo me non c'è bisogno di dimenticare una persona è impossibile dimenticare una persona che ti ha fatto star bene che ti ha fatto provare emozioni forti però riesci comunque a ricordartela senza provare dolore e a superare il dolore della rottura nel frattempo il mio consiglio è quello di concentrarti su di te sulle tue passioni e cercare di distrarti il più possibile da questa cosa sicuramente serve next question tre cose che non sopporti affatto devo dirne solo tre perché ce ne sarebbero veramente miliardi la prima è asciugare i capelli io veramente odio asciugare i capelli infatti li asciugo tipo due tre volte all'anno il resto delle volte li lascio asciugare all'aria o nel turbante perché veramente è insopportabile asciugarsi i capelli non ce la faccio proprio mi annoia e mi da fastidio e mi rende i capelli brutti non so è una cosa che proprio non sopporto come seconda cosa vi dico chi parla senza sapere le cose chi trae conclusioni chi pensa di sapere tutto quando in realtà non sa niente mi fa urtare prima ti informi poi parli altrimenti tieni chiusa quella boccuccia altrimenti io sclero grazie prego ciao e la terza cosa che vi dico è il fumo il fumo è qualcosa che non sopporto se qualcuno fuma anche a 10 metri da me mi da fastidio mi da veramente fastidio è proprio una puzza che non riesco a sopportare e quindi insomma io sono proprio la persona più contro il fumo di questo pianeta comunque cosa avevo detto prima di vedere il film esatto che sarei andata a dormire presto ma non riesco perché mi carico un sacco alla sera mi vengono le idee migliori gli spunti migliori quindi inizio a fantasticare con la mente a progettare cose e quindi niente anche oggi si dorme presto domani sembro una dodicenne ma tralasciamo sto per andare a dormire quindi vi saluto spero che questo vale ma vi sia piaciuto se così lasciate un like iscrivetevi al canale se no devo ricordarmi di portare sull'unicorno perché ce l'ho sempre giù in valigia e non ho voglia alle 1.30 o 2 di notte di scendere e prenderlo quindi perdonatemi ma per oggi vi lancio l'orso a casa di nuovo voglio bene e a domani e domani è la vigilia adoro l'ho detto tipo mille volte però adoro sto aspettando questo momento da l'anno scorso l'orso a casa